Degnissima Madre di Dio, fra tutte le donne la favorita, senza di te che cosa può fare l'anima mia? Soccorri me, vilissimo tuo servo, pronto a dare mille volte la vita in tua difesa. Che ciò sia vero tu lo sai, perché lo puoi vedere nello specchio della divinità. Accostati a me, tocca il mio cuore, perché possa accogliere nel mio amore pure filiale tuo figlio Gesù. Voglio amarlo e servirlo più di quanto sia stato amato e servito dai santi. Non vi domando paradiso, gloria, gusti, gioie, ma che riempiate il mio cuore del vostro puro amore, poiché questo è il mio unico fine e l'unico mio paradiso.